Compleanno importante per il Consorzio del Provolone del Monaco, DOP. Questo è stato l'anno della decima edizione dal raggiungimento della denominazione di origine protetta ed è stata celebrata in una serata a Vico e Quenze. Una manifestazione che è culminata con la premiazione del caseificio Ruocco di Agerola che è il risultato essere il vincitore dell'edizione 2016-2017 del trofeo Fernando De Gennaro. Il verdetto è arrivato dagli assaggiatori dell'Onaf ai quali spetta il difficile compito di scegliere il migliore provolone del Monaco DOP dell'anno. La giuria presieduta dalla vicepresidente nazionale Maria Sarnataro ha scelto dopo una lunga selezione il formaggio made in Agerola. Ed è stato questo un momento importante che ha vissuto il suo culmine con un convegno nel corso del quale hanno preso la parola le persone più importanti di questo consorzio come il presidente Giosuè De Simone e il direttore Vincenzo Peretti. Un importante contributo è arrivato dal consulente per le politiche agroalimentari Italia-Unione Europea Corrado Martinangeli dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. La serata è stata aperta con la lavorazione dal vivo del provolone del Monaco DOP alla quale si riferiscono le nostre immagini ed è stata conclusa con la cena di gala preparata dagli allievi dell'Istituto Alberghiero De Gennaro di Vico Equenze. L'istituto che ha sfornato chef del calibro di Antonino Cannavacciolo e Gennarino Esposito. Prossimo appuntamento a Massa Lubrense.